Questo è ciò che resta dell'Audi Gialla, il bolide su cui sino la scorsa notte si sono spostati tre banditi che hanno seminato il panico in tutto il nord-est d'Italia, riuscendo a farla sempre franca. Si diceva solo ieri che il covo era a due passi dal Bassanese, beh, proprio la scorsa notte il gruppo di malviventi si è portato in aperta campagna, in via Battagello a Fonte e ha dato fuoco all'auto, distruggendo ogni prova. L'Audi, che era stata rubata nel Milanese e che aveva anche provocato un morto sul passante di Mestre, imboccato contro mano, è stata abbandonata proprio qui, sulla riva del fiume Musone, al confine tra i comuni di Fonte e Asolo. Per evitare che finisse in acqua è stato anche tirato il freno a mano e poi, secondo una ricostruzione dei carabinieri che stanno seguendo le indagini, le fiamme hanno fatto il resto. C'è stato un boato tremendo, avvertito da alcuni residenti poco prima della mezzanotte. Alida Ferraro e Valentino Tonello sono i primi ad essersi accorti del ruogo e a dare l'allarme. Sembrava uno sparo e ci siamo allarmati, siamo usciti per vedere cosa c'era e ci siamo accorti dal terrazzo che c'era fuoco e fiamme che divampavano vicino alla riva del Musone. Abbiamo allertato i carabinieri immediatamente e dopo che è arrivata la battuglia mio marito è andato a vedere anche lui cosa c'era perché non avevamo idea di cosa fosse. Vi immaginavate che si trattasse proprio di quella dell'Audi gialla? No, no, assolutamente no. Me ne sono reso conto quando appunto sono andato là a vedere cosa si trattava insomma perché ho visto questa macchina con questi contorni gialli, ho immaginato. Certo è che ha seminato il panico e il fatto che le tre persone, i tre banditi siano riusciti a scappare non tranquillizza assolutamente. No, no, no. Si diceva addirittura che il covo di queste persone potrebbe essere proprio qui vicino. Sì, l'ho sentito anch'io che tanta gente dice sta roba, è un po' preoccupante sta cosa, sapere che sono probabilmente qua della zona forse perché per conoscere un posto così devono conoscere la zona. Di fatti i tre hanno scelto con cura un luogo isolato, non semplice da raggiungere. Gli uomini del RIS hanno analizzato sino al tardo pomeriggio tutta l'area, recuperando diversi reperti che potrebbero aiutare a risalire i malviventi di cui pare ancora non si conosca l'identità. Continua senza tregua la caccia ai tre, c'è da capire dove ora si siano rifugiati e potrebbero non essere andati così lontano.